Grazie a tutti di essere qui. La giornata sarà molto interessante perché abbiamo un panel di esperti di un settore molto particolare e molto sensibile. La tematica la conoscete, è quella del titolo, abbiamo voluto inserire il concetto dell'informazione ma in relazione nel quadro del fenomeno delle cosiddette guerre ibride. Nelle guerre ibride noi sappiamo che chiaramente ci sono le armi, ci sono le armi molto sofisticate, ci sono i software ovviamente quindi l'apporto della cibernetica e poi non da ultimo come tutte le guerre del passato e tutti gli scontri tra gli esseri umani c'è l'informazione, la propaganda. Ora mettere insieme guerre ibride, tecnologia e informazione è molto importante perché sebbene nel passato l'informazione si capiva il gioco che poteva fare nell'ambito degli scontri, oggi è meno percettibile perché chiaramente con l'avvento della tecnologia dell'informazione e della comunicazione appunto, chiaramente si sono aperti altri canali di diffusione del pensiero e dell'informazione ed anche ovviamente della disinformazione e quindi anche di tutto quel sistema che faceva capo e che fa capo alla propaganda. Quindi c'è una certa sorta di evoluzione, ma con una questione in più. Il giornalista è chiamato a svolgere il proprio dovere, chiaramente, cercare l'informazione, assicurarsi delle fonti e così via e disseminarla, chiaramente articolandola secondo il proprio punto di vista. Tuttavia noi notiamo che negli ultimi anni in particolare si è sviluppato una nuova attività da parte di chi fa informazione. Molto spesso è diventato un combattente forse anche a sua insaputa, vale a dire è entrato in un contesto per cui è diventato uno strumento a supporto di una delle parti in causa. Ma adesso la faccio breve e passo subito ringraziando la parola all'onorevole Pino Cabras che ha accolto l'idea di questo seminario e l'ha sostenuta. A te Pino, grazie. Immaginate di vedere un personaggio dalla televisione che sia influente sulla vita politica del vostro Paese che a un certo punto dice A chi rimane neutrale non sarà affatto torto alcuno. Chi partecipa alla rivoluzione sarà con noi e verrà trattato al pari di ogni altro cittadino. Chi invece sarà colpevole di un sacrilegio sarà squartato e la sua carne sarà data in pasto ai cani. Questo è successo nel 2011 dagli schermi di una televisione saudita, grande diffusione panaraba, dove c'era uno sceico di origine siriana, Adnan al-Aruri, che faceva questa dichiarazione sugli inizi di quella che poi sarebbe diventata la grande crisi siriana con le centinaia di migliaia di morti, con le persone davvero date in pasto ai cani e con una distruzione sostanziale di tutte le infrastrutture di quel Paese. Questa informazione era essenziale per un cittadino anche occidentale per capire che cosa si stava preparando lì, ma non è mai stata data, non è mai stata percepita, non è stata mai colta nella sua gravità. Sono avvenuti dei fenomeni di potente deflagrazione di società che venivano investite da un'ondata di violenza enorme spinta da un fondamentalismo che aveva delle coperture economiche e diplomatiche sia in seno alle petromonarchie del Golfo sia presso le capitali occidentali e questo stava preparando una tragedia enorme che non è stata minimamente raccontata in modo corretto. In questo tavolo ci sono persone che invece questi fenomeni li hanno conosciuti prima e dopo e le raccontavano da un'angolazione che veniva in qualche modo sbertucciata dal mainstream informativo nostro, dai giornaloni, dalle grandi televisioni. Certi argomenti o certe angolazioni di interpretazione della realtà su temi importantissimi come la pace e la guerra diventavano dei tabù e quindi non se ne poteva parlare serenamente, tutto veniva inquadrato in una logica dittatore contro popolo e qualsiasi altra sfumatura interpretativa, qualsiasi visione che raccontava gli interessi in gioco, quello che accadeva, veniva messa ai margini. Questo dal punto di vista del mainstream tradizionale, i grandi giornali che sono altrettanti asset di sistemi di potere. Però è accaduto anche con i social media che sono diventati un terreno di battaglia e da questo punto di vista se ci mettiamo nell'ottica di una potenza che spende in armamenti, che spende per prevalere dal punto di vista militare, un bombardiere costa infinitamente meno che pagare legioni di troll o di persone che influiscono sui media. E molta dell'informazione è stata intossicata anche in questo modo, non si poteva discutere serenamente perché c'era una guerriglia presso tutte le forme di diffusione sociale dell'informazione, anche quella apparentemente alla pari dei social network. Cosa voglio dire con questo? Che la guerra da tempo, ma questo lo sapevamo dai tempi della propaganda anche della prima guerra mondiale, è strettamente integrata con i media e i media sono uno degli strumenti della guerra. In una guerra cosiddetta ibrida in cui c'è la parte dell'hardware, delle bombe o degli assalti o dell'artiglieria o dei bombardamenti, si aggiunge anche una parte di guerra della percezione, che è importantissima proprio per dare il là di come va letta una guerra. E questo avviene anche prima che si scatene una guerra, ad esempio in tanti fenomeni apparentemente rivoluzionari degli ultimi anni, con delle rotture, tentativi di colpi di Stato, le cosiddette rivoluzioni colorate, la parte della guerriglia mediatica è stata essenziale. Giusto per scegliere subito qual era il terreno della discussione, per stigmatizzare una posizione che si ponesse anche in modo mediano rispetto ai fenomeni che accadevano e incanalando tutto in modo molto rigido. Vi racconto brevissimamente un episodio che è successo quando si è discusso qualche mese fa di Venezuela. C'è stata una mozione per parlare alla Camera della questione di quello che stava accadendo in Venezuela, dell'autoproclamato presidente Guaidò. Come 5 Stelle abbiamo cercato di assumere una posizione che spingesse il governo a non schierarsi con una vicenda chiaramente influenzata da strategie di grandi potenze, in particolare degli Stati Uniti, per creare il massimo margine di mediazione. E quindi non è che ci siamo schierati con il presidente Maduro contro questo politico venezuelano. Abbiamo scelto una posizione che fosse il massimo della mediazione possibile, proprio per creare dei margini che altrimenti venivano consumati dalla corsa al riconoscimento di una figura che era nel pieno di una controversia costituzionale delicatissima e molto pericolosa. La posizione era quindi non siamo i fan di Maduro, per dirla in modo molto chiaro, siamo stati in una posizione molto mediatrice. Quel giorno, il giorno del dibattito, la scelta dei principali giornali italiani è stata semplicemente di bucare la notizia. I giorni precedenti se ne parlava, i giorni susseguenti se ne parlava. Quel giorno in cui c'era la nostra posizione non ne hanno parlato, hanno preferito letteralmente bucare la notizia. Questo è come funziona il mainstream italiano. E direi anche in molti paesi occidentali c'è questo tipo di omissioni. Questo per dire che la battaglia per fare un'informazione corretta deve partire dal fatto che non ci devono essere interventi tabù, che in questo tavolo parleranno persone che spesso sono state anche ostracizzate dal sistema mediatico e che avevano ragione nel leggere certi fatti. Se fossero state ascoltate, quando raccontavano ad esempio di quello sceico che ho citato all'inizio, avremmo magari capito già qualcosa di meglio della guerra siriana di oggi. Il fatto che ci siano state quelle omissioni pesanti all'interno di una cornice di guerra ibrida ci ha impedito oggi di capire le cose. E oggi c'è la corsa di molti a dire guardate ci sono questi che vogliono far squartare i cani. Adesso che la lettura della guerra in Siria cambia con l'intervento turco. Però la situazione c'era già. Ecco, questo ci deve spingere a ragionare molto sull'informazione, a vederne i limiti. E credo che molti degli ospiti di oggi potranno raccontare un pezzo di questa realtà molto complessa. Grazie. Ciao a tutti. Ringrazio mio mischio e ringraziamente nei confronti dell'onore di Gabras. Non è facile, non è comune poter essere qui e parlare di informazione. Perché come ha giustamente ricordato Tiberio, io sono tornato tre giorni fa dalla Siria, sono stato un mese. Io penso di essere tra le persone che è stato maggiormente in Siria perché complessivamente sono stato quattro mesi sempre accreditato con il governo legittimo della Siria. Sono stato al confine con la Turchia, quindi ho vissuto in presa diretta gli eventi dell'operazione Fonte di Pace messa in piedi dalla Turchia appunto per contrastare i curdi al confine. Mi viene da sorridere perché di queste cose ne avevo già parlato con il generale a capo dell'ufficio politico dell'esercito siriano perché quando ero andato a gennaio, ero stato un altro mese sempre per il progetto a lungo termine che sto seguendo, il generale mi chiese uno sguardo da occidentale sulla situazione siriana. Io feci un'analisi al volo, gli dissi guardi generale secondo me il problema più grande che avete voi in casa oggi sono i curdi perché i curdi è stata fatta un'operazione di marketing gigantesca nei loro confronti e oggi come oggi se voi nel futuro muoverete guerra nei confronti dei curdi quello che avete avuto contro in questi anni è rose e fiori, vi ritrovereste massacrati letteralmente dai giornali di tutto il mondo. Dico l'unico modo che avete voi per risolvere la questione dei curdi è per interposta Turchia perché è un paese della Nato, è un paese che può ricattare l'Europa e casualmente questa analisi fatta così al volo poi si è rivelata veritiera quindi diciamo io non sono un fenomeno, sono una persona normale, ho un cervello che funziona, lavora sul campo e diciamo se io ho potuto fare un'analisi di questo tipo sei mesi fa non capisco per quale motivo oggi ci si sorprende di quello che è successo ma quello che volevo dire è che oggi la notizia non è questa, secondo me la notizia non è fonte di pace non è il problema dei curdi, non è neanche la situazione siriana attuale secondo me la vera notizia oggi è che sta avvenendo letteralmente giù il sistema dell'informazione il sistema dell'informazione sta avvenendo giù sotto il peso dei suoi cortocircuiti io ricordo sempre il lavoro di Chomsky in Vietnam quando lui per primo attaccò i giornalisti che per anni si erano schierati a favore dell'intervento americano in Vietnam lui aveva esposto delle ragioni, era stato aspramente criticato dopodiché tutto ciò che aveva detto in anticipo si è rivelato vero insomma tutto quello che io ho detto in otto anni di guerra in Siria oggi sta rivelandosi vero e il sistema dell'informazione sta frullando delle sigle che masticate, rimasticate l'opinione pubblica non ci capisce nulla io feci una protesta nei confronti del direttore del fatto quotidiano andai dentro la redazione del fatto quotidiano, parlai con la vice direttrice a un certo punto gli posi un quesito mi dica solo una cosa, non le chiedo di dirmi cosa è successo in Siria mi dica almeno il numero degli attori internazionali presenti oggi in Siria mi dia un numero, 2, 3, 5, 7, 12, quel numero non arrivò perché oggi anche nelle redazioni dei grandi giornali non si sa o si fa finta di non sapere chi siano gli attori che in questi otto anni hanno insanguinato la Siria la Siria era un paese moderno, un paese il cui presidente Bashar al-Assad era stato premiato dal nostro presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con il titolo dell'ordine di Gran Croce era stato premiato con la legione d'onore francese tutto in un tratto è divenuto un dittatore sanguinario le due cose non tornano, cioè qualcuno deve spiegare per quale motivo un anno prima si premia un presidente per le sue aperture nei confronti dell'Occidente la modernizzazione del paese e un anno dopo diventa un dittatore sanguinario oggi noi assistiamo appunto ai cortocircuiti dell'informazione left ha completamente cancellato dal web tutti gli articoli inerenti ai White Helmets i White Helmets che erano stati osannati da una serie Netflix pagata a un milione di dollari c'era entrato in campo George Clooney Roger Waters è stato uno dei pochi che ha sempre criticato i White Helmets per questo è stato accusato dal Guardian che poi ha dovuto chiedere scusa e quindi noi assistiamo a una testata italiana che rimuove dal web i suoi articoli e oggi viene attaccata quotidianamente dagli utenti dei social che chiedono conto del motivo per il quale loro presero posizione in favore dei White Helmets la risposta è colpa del governo precedente perché dicono che no era la precedente redazione che ha fatto questo noi non c'entriamo nulla però nel frattempo cancellano gli articoli e non c'è un articolo riparatore nel quale loro dicano ok precedentemente abbiamo preso una cantonata la situazione è questa perché poi si vengono a sapere che i White Helmets erano associati ad Al-Nusra Al-Nusra è l'al-Qaeda siriana e oggi i White Helmets sul loro sito che cosa fanno? Oggi i White Helmets attaccano i kurdi attaccano i kurdi dicendo che stanno bombardando strutture e civili voi capite che tutto questo è folle l'osservatorio siriano per i diritti umani che per anni è stata divenuta la fonte d'eccellenza di tutti i giornali mondiali come dice l'osservatorio siriano per i diritti umani per inciso l'osservatorio siriano per i diritti umani è una persona che gestisce un ufficio a Coventry che da dieci anni manca dalla Siria e per anni ha intossicato l'opinione pubblica mondiale con informazioni provenienti esclusivamente da fonte di parte da fonte del Free Syrian Army quello stesso Free Syrian Army che oggi appoggia Erdogan nella pulizia etnica contro i kurdi quindi oggi il Free Syrian Army è divenuto cattivo quindi voi capite che tutto questo è folle e per Repubblica oggi l'osservatorio siriano per i diritti umani non è più fonte attendibile quindi tutto ciò che è stato preso per olocolato in tutti questi anni oggi non è più fonte attendibile quando lo dicevamo noi nel corso di questi anni veniamo presi per pazzi Reuters, New York Times, Guardian, Repubblica tutti i giornali del mondo per anni hanno ripreso le informazioni di una fonte non attendibile hanno pubblicato video che erano provenienti da fonti di parte tutto questo è una follia tutto questo oggi io ho fatto un lavoro recentemente sui civili siriani i civili lentamente stanno ritornando nelle loro case ma oggi sono strangolati dalle sanzioni internazionali assistiamo a famiglie della classe media quindi non poveracci, non disperati famiglie della classe media chi lavorava nelle fabbriche, quindi operai, insegnanti e quant'altro che non potendosi più permettere gli affitti nelle zone decenti e non bombardate, ad esempio di Dei Rezor stanno ritornando nelle loro case bombardate io se voi andrete nel mio sito vedrete sulla mia pagina social eccetera eccetera in che condizioni vive quella gente voi forse vi renderete conto di cosa abbiamo fatto noi a quel paese è una cosa gravissima e indecente ho conosciuto persone che parlano italiano perfetto sempre parlo di classe media, di gente istruita che lavorano da restauratori al museo di Damasco uno è un professore di musica si è formato a Genova, al conservatorio di Genova voi dovreste sentire e parlare con queste persone di che cosa vuol dire oggi vivere in Siria con gli stipendi che hanno perso il 40% del loro potere d'acquisto i prezzi che continuano a salire perché ci sono le sanzioni, gli imbarghi e quindi il petrolio è diventato costosissimo c'è una tessera per poter fare rifornimento di carburante quindi voi vedete un paese che era un modello di integrazione di coesistenza civile tra varie culture, tra varie religioni che è sull'orlo del collasso è sull'orlo del collasso per via delle sanzioni occidentali che ovviamente non colpiscono la famiglia Assad ovviamente non colpiscono il suo cerchio ematico le sanzioni colpiscono i civili e io oggi qui mi trovo di fronte alle istituzioni per chiedere a voce alta che si rimetta mano a questa questione e che l'Italia si faccia promotrice di un'iniziativa per rimuovere le sanzioni nei confronti della Siria perché è una cosa indecente chiudo dicendo molto rapidamente che innanzitutto voglio dire che quando questi paesi i paesi non allineati stanno o cercano di raggiungere lo sviluppo cercano di raggiungere il benessere che è il benessere della classe media e il benessere della classe media vuol dire stabilità per un paese non appena fanno percorsi in tal senso noi occidente interveniamo per tagliargli le gambe perché la nostra volontà è che questi paesi restino sottosviluppati la nostra volontà è che questi paesi siano dominati dal caos perché quello che si è fatto in Siria è il tentativo di divisione su base etnica regionale di balcanizzazione ne abbiamo parlato prima appunto di Balcani e di Kosovo della Siria io mi sono occupato per inciso anche di Donbass che è un altro dei teatri aperti ho partecipato alla cosiddetta rivoluzione di Maidan e sempre tornando al discorso dei media io devo dire che i media si sono impadroniti delle parole perché già quando ci presentano il termine rivoluzione noi abbiamo subito un pensiero positivo un'accezione positiva pensiamo a un popolo che si sta rivoltando giustamente contro i propri governanti ebbene se vedete il lavoro che io ho realizzato a Maidan voi non vedrete un popolo che gli omini con il caschetto e con la valigetta che vanno in piazza vedrete i paramilitari di estrema destra ben addestrati, ben organizzati che organizzano una guerriglia urbana o in alcuni casi addirittura avere propria guerra nei confronti delle istituzioni immaginatevi voi di avere a 100 metri da piazza di Montecitorio delle barricate con gente armata di molotov armata di armi da fuoco armata di bastoni e spranghe che si scontra contro la polizia l'abbiamo visto nel caso dei gira gialli lo vediamo oggi in Cile eppure tutto l'occidente non dice nulla però i dittatori sanguinari che si rivoltano contro il proprio popolo sono sempre quelli non allineati quelli che cercano in qualche modo di mantenere lo stato di diritto e la sovranità delle istituzioni e vengono continuamente attaccati dagli organi di informazione addirittura Yanukovic fu definito un presidente filorusso quando era tutto forché un presidente filorusso eppure lì anche oggi assistiamo all'Ucraina un paese nel caos un paese lacerato un paese in cui c'è una guerra di trincea che si combatte da 5 anni nel silenzio totale del mondo perché la guerra continua anche oggi e un paese in cui c'è un collasso economico ed è un paese dove si viveva decentemente non si viveva male era un paese non ricco ma neanche un paese povero e noi siamo complici di tutto questo il sottosegretario agli esteri americano Victoria Nuland all'epoca disse abbiamo investito 5 miliardi di dollari per dare all'Ucraina il governo che si merita hanno speso 5 miliardi di dollari per finanziare un colpo di Stato non una rivoluzione cominciamo a chiamare le cose con il loro nome scusate se ho preso brecchio tempo scusate l'enfasi ma una volta che uno può parlare di queste cose le vuole dire potrei parlare per ore ma lascio la parola agli illustri colleghi relatori e grazie per l'opportunità che mi è stata data allora scusatemi mi rubo appunto giusto altri tre minuti perché sentendo gli interventi degli altri relatori mi sono venute in mente parecchie cose cercherò di essere il più sintetico possibile sarebbe il caso penso nel futuro di inaugurare una rubrica nelle grandi testate come un po' si fa con il report come è andato a finire perché oggi praticamente ci sono tutti gli elementi per riuscire a capire fatti che erano stati raccontati in passato per capire come sono andati a finire e capire chi aveva ragione e chi aveva torto nel raccontarli in un certo modo vorrei aggiungere un fatto forse a molti non noto del quale io ho scritto un articolo nel passato riguardo alla guerra in Iraq per esempio il ruolo di Ahmed Chalabi Ahmed Chalabi era un uomo dell'entourage di Saddam Hussein che di fatto confezionò il dossier fasullo sulle armi di distruzione di massa perché nessuno oggi si è domandato o si domanda chi confezionò quel dossier perché quel dossier fu confezionato dall'intelligence statunitense in collaborazione appunto con Ahmed Chalabi la domanda è chi ci dice che fu proprio Ahmed Chalabi a confezionare quel dossier vi rispondo io fu lui stesso lui stesso perché lui fu raggiunto diciamo Chalabi è uno degli scontenti perché diciamo che dopo la guerra in Iraq gli era stato promesso di avere un ruolo rilevante nella ricostruzione del nuovo Iraq poi fu messo da parte e lui si vendicò vuotando il sacco appunto sul confezionamento delle armi di distruzione di massa fu raggiunto da una giornalista francese che gli fece una lunga intervista nella quale lui appunto rilevò i contatti avuti con l'intelligenza straniera per compilare questo dossier sapete come è andata a finire la storia di Ahmed Chalabi che il giorno dopo fu trovato morto nella sua stanza d'albergo e la giornalista francese fece i bagagli di fretta e furia e scappò in Francia un'altra cosa interessante l'ha detta prima Giulietto Chiesa e riguarda il ruolo dei social in particolare delle grandi compagnie in questo caso Facebook ma anche Google e sul ruolo che hanno nel controllo di ciò che viene detto e dei contenuti qui in sala non la citerò c'è presente una persona che io conosco perché poi la cosa interessante dei social è il virtuale che diventa reale quindi poi ci si incontra ci si confronta eccetera ebbene questa persona con la quale sono in contatto da tanto tempo e che stimo particolarmente per il lavoro amatoriale perché poi tutti facciamo un lavoro amatoriale di diffusione di informazioni è stata bannata in maniera del tutto arbitraria e inconsistente da Facebook io la conosco una persona assolutamente moderata nei toni assolutamente documentata eccetera ma è stata bannata da Facebook ed è impossibilitata attualmente ad accedere al suo vecchio profilo Facebook ebbene qui abbiamo sempre rappresentanti delle istituzioni e io vorrei sottolineare un fatto che oggi i social sono come una compagnia telefonica cioè offrono un servizio pubblico immaginate voi domani le compagnie telefoniche che stabiliscono ciò che potete dire o non potete dire al telefono che facciano censura dei vostri contenuti nei quali voi spesso vi ripoggete ai vostri amici o alla vostra platea ora se questi contenuti non sono contrari alle leggi del proprio paese io non capisco con quale arbitrarietà una compagnia privata può decidere offrendo poi un servizio pubblico del quale poi paga delle tasse irrisorie perché poi qui si aprirebbe un altro discorso che non sta qui diciamo non è la sede giusta per affrontare però secondo me quello che è il punto fondamentale è capire che oggi questi social offrono un servizio pubblico e che non possono in nessun modo limitare i contenuti se questi non sono contrari alle leggi nel paese in cui appunto viene esercitato questo servizio pubblico in merito a quello che diceva Thierry Messiaen sono assolutamente d'accordo su questo tentativo di divisione del mondo in un mondo globalizzato e stabile in un mondo dominato dal caos guarda caso gli Stati Uniti sono presenti sul territorio siriano dove sono i curdi e dove sono i curdi sono presenti dove ci sono i giacimenti di gas e petrolio che gli stessi curdi stanno rivendendo in maniera del tutto illegale al governo siriano e in alcuni casi hanno anche sparato su ordine degli americani su questi convoi cioè questo petrolio era stato pagato dal governo siriano era in transito gli stessi curdi hanno sparato sul convoio e vi lascio immaginare anche le conseguenze ambientali visto che oggi si parla tanto di ambiente l'ultima parola la vorrei dire sull'intervento di Franco che io conosco personalmente è che stimo in maniera è come per me un nonno io quando vado a casa e parlo con lui e si apre una finestra sul mondo perché poi è una persona che i fatti riconosce e l'ha vissuto in prima persona lui non l'ha detto lo dirò io Franco ha subito un attentato in Somalia e vivo per miracolo e Franco aveva capito perfettamente quello che avevano capito Ilaria Alpi e Milan Rovadin l'aveva capito perché lui stava dentro le stanze dei bottoni e per questo ha subito un attentato e mi disse una frase che io adesso cito che mi è rimasta stampata nella mente nel senso lui disse all'epoca si poté parlare del traffico di armi quello fu una cosa lecita quello di cui non si poté parlare fu il fatto dello sversamento dei rifiuti tossici perché lo sversamento dei rifiuti tossici mette in discussione il nostro modello di sviluppo e questo è un punto fondamentale oggi che si parla a sproposito di ambientalismo abbiamo la Greta abbiamo tutto questo mondo eccetera cioè parlare di ambientalismo senza mettere in discussione il modello di sviluppo è come diceva parlare di ambientalismo è come fare giardinaggio stiamo parlando del nulla quindi qui abbiamo un testimone diretto di fatti epocali che sono successi che ci hanno visto coinvolti in prima persona e che hanno visto coinvolti i più importanti paesi europei le foto di Franco furono pubblicate su Avvenire c'erano questi barili contenenti le scorie radioattive che hanno fatto vincere un premio al giornale Avvenire ovviamente Franco è contingentato in questa discussione per motivi di tempo ma potrebbe parlare per settimane io quando sto a casa sua stiamo scrivendo un libro assieme sarei ore e ore e ore a sentirlo parlare perché è una miniera infinita di informazioni tenete a mente questo discorso le armi erano passabili le scorie nucleari no perché mettono in discussione il nostro modello di sviluppo chiudo grazie una cosa una cosa al volo che quello che ha detto Luciano secondo me è determinante perché forse la parola che manca a tutto quello che ha detto è la questione dei social e dei motori di ricerca è una questione di sicurezza nazionale voi pensate a paesi come la Russia e la Cina pensate cos'era 90 anni fa cioè paesi del terzo mondo perché la Russia è uscita dal crollo a pezzi eccetera la Cina era un paese agricolo eccetera oggi Russia e Cina si sono dotati di motori di ricerca social proprietari loro che gestiscono loro in prima persona eccetera noi quel grande carrozzone che passa in maniera molto ilare sotto il nome di Unione Europea in tutti questi anni cioè mentre altri paesi arretrati si sono dotati di strumenti per proteggersi appunto e per tutelare i loro cittadini il loro governo le loro istituzioni appunto dalla possibilità della manipolazione degli attacchi e quant'altro l'Unione Europea che aveva un PIL forse mille volte superiore a questi paesi in tutti questi anni non è riuscito di dotarsi di software social motori di ricerca proprietari quello che ha detto Thierry Messon prima è determinante il sistema americano sta collassando non sarà oggi io spero che noi lo accompagneremo a terra e che non crolli come l'Unione Sovietica ma io vi dico gli Stati Uniti domani possono spengere l'Unione Europea io vi dico spengere spengere vuol dire che ci possono riportare all'età della pietra e ci sono paesi stranieri che già si sono dotati di un sistema Swift alternativo si sono dotati cioè io noi in Europa non abbiamo un registro brevetti unificato cioè siamo nella totale follia scusate ma mi sembrava interessante dirlo sono arrivate molte suggestioni in questo incontro molto molto utile per ragionare di temi che normalmente vengono trascurati dalla politica distratti da altre faccende che sembrano apparentemente più importanti però la gestione dell'informazione in relazione a eventi importantissimi come la pace e la guerra la sicurezza dei cittadini sono questioni che poi riguardano tutti noi questo strumento è stato evocato in più occasione il telefonino questa presenza costante che registra tutto noi sappiamo dalle rivelazioni di Snowden che nei forzieri della NSA il grande apparato spionistico statunitense sullo spionaggio elettronico c'è la totalità di tutte le nostre mail di tutte le mail che abbiamo avuto Gmail Yahoo Hotmail chi più ne ha più ne metta la totalità di tutte le nostre comunicazioni su Facebook quindi tutte le comunicazioni private che abbiamo avuto sono lì registrate ne hanno una copia sempre Wikileaks aveva rivelato che otto anni fa era stato fatto un esperimento dall'NSA di registrare la totalità delle conversazioni telefoniche di un paese per un anno e quel paese era l'Afghanistan tutto sommato un paese con pochi abitanti rispetto alla popolazione mondiale però la totalità delle conversazioni considerata l'aumento esponenziale della potenza di calcolo dei super computer che analizzano i big data possiamo pensare che quell'esperimento sia stato esteso su larghissima scala e abbiamo visto che queste cose non hanno risparmiato neanche i paesi che in teoria dovevano lasciare immune la propria popolazione da forme di controllo così assoluto questo cosa significa che chi è in grado di maneggiare i big data è in grado di orientare comportamenti collettivi di comprenderne la portata e questo può accadere sia in piccoli esperimenti tra virgolette positivi come quello che è stato fatto a Napoli con un algoritmo è stata ridisegnata la dislocazione delle volanti della polizia in base agli orari ai comportamenti sociali al traffico all'orario dell'arrivo dei traghetti all'orario di chiusura delle banche e in base a tutta una serie di calcoli che sono stati convogliati con i big data sono in grado di prevedere la zona più probabile in cui possa avvenire una rapina o uno scippo e da questo ridisegno sono riusciti a diminuire effettivamente i tempi di intervento della polizia questo apparentemente aumenta la sicurezza collettiva ma questo significa che chi è in grado di controllare di confrontare questi dati può anche fare operazioni gigantesche di manipolazione sociale anche conoscendo meglio le cose che accadono a noi di quanto non le conosciamo noi io non ricordo cosa facevo alle ore 13.21 del 17 novembre 2011 il sistema lo sa e lo collega a tante altre informazioni questo ci deve interrogare proprio sulla portata sul significato assunto da questi grandi centri di raccolta che da un lato decentralizzano tutto perché è un sistema estremamente ramificato dall'altro centralizzano moltissimo le informazioni in pochissime proprietà collegate comunque a degli stati e quindi alle loro strategie una cosa che farò nei prossimi giorni è un'interrogazione sulle decisioni di Facebook di chiudere delle pagine in modo senza dare preavviso senza spiegare perché per le ragioni che sono state spiegate prima anche da Giorgio questo è inaccettabile per l'importanza che hanno assunto degli strumenti che dovrebbero agire in modo molto più neutro qua c'è una battaglia culturale da fare perché magari le persone avverse a quelle pagine dicono ah bene sono state chiuse quelli sono fascisti e poi dopo pochi giorni è successo che è toccato a qualcuno di loro di loro Grazie a tutti.